Allora io qui c'ho scritto Team Felix Country Dancer Coreografia Django Coreografo Igor Pazin Coreografia edita Quindi non è un inedito La musica Dov'è che è? Django dico il Pazin Di chi è la musica? Mi scusi signora Avete capito? E' massacrato sto ragazzo Quando siete pronti fate un segno E' massacrato sto ragazzo 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501